In quest'ultima tappa del nostro cammino di riflessione, ma anche di denuncia e proposizione di proposte sul tema della educazione alla felicità, abbiamo detto piuttosto le cose da non fare, cioè non bisogna educare al rigidismo, al buonismo, alla mancanza di verità, quindi di trasparenza, bisogna evitare l'irresponsabilità, ma formare persone praticamente adulte, mature e responsabili. Da oggi vorrei vedere un po' insieme a voi, ma accompagnato da un grande educatore, un grandissimo educatore, Donoreste Benzi, morto qualche anno fa. Personalmente l'ho conosciuto, poche volte l'ho visto, ma in quelle poche volte mi ha trasmesso tutta la sua carica di amore e la sua carica di educatore, perché vedete il vero educatore deve avere questa carica interiore di amore, deve sapere amare, anche se lui non è stato amato, deve imparare a superare queste problematiche, a superare questa mancanza di amore, ma amare. L'educatore vero ama con il cuore, anche un docente, anche un professore, anche un leader di un'associazione, di un movimento deve educare, ma con amore e con passione. Se non c'è la passione dentro, la passione per l'altro, la passione per il bene dell'altro, allora non possiamo essere educatori, possiamo essere dei bravi oratori, dei bravi organizzatori, dei bravi promotori, dei bravi leader, ma non educatori, perché sia che io sia oratore, oppure organizzatore, oppure promotore, devo comunque farlo finalizzando tutto a educare, educare vuol dire essenzialmente amare. Dicevo appunto di Oreste Benzi, lui ha scritto una terapia per educare i giovani alla felicità e quindi alla responsabilità e quindi alla trasparenza e quindi all'impegno e quindi alla cittadinanza attiva, all'impegno politico, all'impegno ecclesiale e all'impegno nella propria famiglia, all'impegno nel proprio paese, all'impegno laddove si vive. Vedremo un po' di provocazioni, di stimoli, di terapie, dieci terapie, le sue dieci terapie fondamentali per educare i giovani alla felicità. La prima terapia è quella della verità. Ne abbiamo già detto qualcosa su questo. Il giovane deve essere educato a sviluppare il suo senso critico per assumere il coraggio della verità fino ad essere trasparente. La verità rende felici e il giovane nel cuore ha questo senso di verità. Quando critica un giovane, anche se alcune volte sbaglia, è perché a modo suo ricerca la verità e ama la verità. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!